Buongiorno, mi chiamo Francesco Antolini, sono il presidente dell'Antolini Luigi e CSPA, un'azienda leader del settore Lapideo, un'azienda che è presente sul mercato dal 1956 e che esporta in tutti i paesi del mondo. Noi partecipiamo alla fiera dalla sua fondazione anche perché Luigi Antolini, mio padre, è stato uno dei fondatori della fiera originale. Per noi questa fiera è un momento assolutamente importante dell'anno e forse la più importante nel settore Lapideo, per cui siamo sempre ben contenti di partecipare a questo evento, a questa manifestazione.